i saliti ignati scena 1 quarta carpe diem vicenza azione ma che vuoi buona rubare è un messaggio impegnativo cioè gente seria dita come voi voi massimo potreste andare a lavorare lavorare ma lavorare stanca è buona ma che roba è non la voglio basta i ceci come si apre sta barattola ecco uno di questi sedatori si tira così eh c'è pure il chiaccio qua ci sono quattro in voltini do una scaldatina mica male un po' d'olio ci mancheremo a me non mi pare spassionatamente senti un po' dalle nostre parti diciamo femmina piccante prendila per amante femmina cuciniera prendila per moglie buona quattuoli mi sa che abbiamo rotto la cannella dei gas grazie 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 grazie